penso aver preparato tutto non può andare niente è storto qui c'è la padella spero che martin vada bene con questo e poi è già preparato tutto quello che serve e anche il piatto l'ho già preparato insomma martin vieni voglio andare sì arrivo allora martin guarda è davvero facilissimo qui c'è l'impasto ma si ce la faccio non ti preoccupare per la torta ok aspetta aspetta cosa la torta dov'è aspetta tu hai messo la torta qui dentro ma come una torta qui dentro ma non puoi essere serio qui dentro c'è l'impasto per la torta devi rovesciare poi l'impasto nella padella ok certo certo scherzavo io vado ok a dopo sì aiuto 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 allora comere allora dov'è per cosa aiuto allora qui c'è la torta ma perché devo mettere la torta nella padella non riesco a capire ma come si fa avere un'idea del genere vabbè comunque da lì rovesciate nella padella poi oh niente male dovrebbe essere buono facilissimo bambini scendete c'è pronto oh vi prego niente uova niente uova niente uova niente uova papà ci fa la torta sì esattamente puoi già avere il primo pezzo sì è una grande aspetta aspetta voglio provare ancora una cosa allora vi faccio vedere ok non l'avete mai visto probabilmente è il mio primo tentativo ma ce la farò oh oh aiuto papà non è una buona idea no 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 cosa vuole fare vuole fare oh no vuole girarlo oh no papà te la sei presa in faccia eh io non lo mangio e ti sicuro tutti i batteri sulla tua faccia va ok piano b non ha funzionato sì pronto servizio pizza sì famiglia fogale esatto come sempre grazie papà giochi dopo con noi certo volentieri ho fatto mi pensare io no scordatevelo giocare con la nema no papà vieni 5 minuti 5 minuti oh lasciatevelo in faccia oh tira tira oh no papà ora vogliamo giocare adesso sì sì tanto non ho gioco perso vabbè arrivo cosa volete giocare monopoli o uno o qualche altro gioco non lo so cosa no no non gioco così giochiamo al castello delle principesse sì io sono la principessa sanna io la principessa sanna sì ok ok non ero pronto allora io sono martin di dalla torta cosa dalla torta ma papà devi avere un vero nome un momento un momento devo pagare dei soldi per giocare con voi ok che gioco strano non per i soldi cioccolata papà non hanno scherzo ok se mamma sembra non prende la sua cioccolata allora non funzionerà ok ok ma io voglio giocare bene quindi vado a prendere la cioccolata dove l'ho nascosta claudia perfetto non avere la cioccolata ma sono da dei biscotti dovrebbe essere addirittura meglio ecco qui cara principessa faccio anche un inchino così che lei possa avere i suoi biscotti ok molto bene grazie allora potete entrare oh meno male che non devo giocare un gioco così stupido sì papà buon divertimento costello fenomenale questo principessa fantastico avrei un desiderio sì sarebbe quello di abitare qui sarebbe fantastico io spero di avere i vestiti di julian non ci possiamo voglio fare un'offerta perché non non conduciamo insieme questo regno cosa ne dice cosa dice principessa come ha potuto giungere a questa idea eh ma principessa ma mi dispiace allora l'ho raggiunto io ok non ti preoccupare oh oh si arrabbira tanto lo so di sicuro penso che verrà cacciato dal regno signore è inufficialmente cacciato dal nostro regno cosa cosa ok e devo lottare no 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 principessa oh aiuto devo prima portare via in sicurezza questi biscotti prima che qualcuno ci cammini sopra in guardia a guarda dobbiamo combattere oh no no niente combattere non vogliono contro di voi oh no e come faccio eh che fai c'è le luci oh sì 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 aiuto oh siamo più forti oh che forti oh 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 ma basta ok non farmi davvero male mi dispiace davvero molto mi dispiace molto per aver distrutto la sua collana ma che cosa succederà ora mmm pensavo di cacciato dal regno ma non è abbastanza ho un'idea migliore mmm verrei mangiato la pantera cosa cosa non è possibile no non potete farlo non state così senza cuore e boh mmm come pensare allora potrebbe passare la vita in carcere mmm cosa no domani devo andare al lavoro e poi ragni e poi no però ci passò Emma no la prego la prego non voglio andare nei sotterranei Emma Emma un'idea migliore dovremmo sì sì dovrebbe essere la sua posizione oh bambini quanto ancora devo stare qui con questo verticale qualcosa più periune oh quanto ancora mi fa già male la testa deve restare così per una giornata una giornata sì 24 ore di verticale questa è la sua posizione potete essere contenti e ritenersi fortunato sarebbe potuto essere andata peggio oh ma cosa stanno dicendo non avrei proprio voglia di nuovo questa cosa della principessa oh no 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 oh no no